Il sindaco Iucurano questa sera a Ventimiglia si riunisce il fronte del SIL, il forte dell'annunziata, innanzitutto perché è importante votare il SIL nel prossimo referendum? Abbiamo fatto un incontro con il sottosegretario Golzi un po' informale, che gradiamo la presenza e la sottotensione perché non è la prima volta che viene in zona, ci contatta, eccetera. Ci sarà anche un momento questo per poi parlare di quello che sarà il tema immigrazione e quant'altro, quindi una presenza diretta da parte del governo qua non ci fa che piacere. Si parlerà con forza anche di referendum? Beh, senz'altro, senz'altro si fa un passaggio, poi sai che c'era l'incontro, sono andato a portare i saluti e dire che io voterò comunque vada sì, però è giusto che ci sia questo dialogo, fa piacere che ci siano tanti momenti di approfondimento su un tema che è così importante. Poi, a maggior ragione, insomma, lo sai come la penso, lo sostengo sì e via.